Che hai fatto? Ho ucciso mia moglie. E anche quanto hanno dato? A me? L'ergastro. L'ergastro? Sì. E che hai fatto? Una strage. Ah, strage? Cioè, oddio, sono stato incolpato, però se andiamo a fondo alle cose non è che voglio dire colpa mia. Assolutamente, perché inizialmente è morta mia moglie. E' morta mia moglie e ce la sono presa con me. Cioè, il discorso è questo. Io sono tornato a casa. E ho raccontato una barzelletta a mia moglie. Una bella barzelletta. E mia moglie cominciate a ridere. Ridere, ridere, ridere. Tante sono state le risate. E a un certo punto è caduta a terra e è morta dalle risate. Ovviamente è arrivata la polizia. Sono arrivati tutti a casa. Lei ha ucciso sua moglie. Io ucciso la moglie. E poi piano piano ha detto che ha ucciso la moglie. Le ho detto una barzelletta e quelle... Mi hanno portato in tribunale. In tribunale il giudice ha detto come mai è morta sua moglie? E il giudice, io ho raccontato una barzelletta a mia moglie ed è morta dalle risate. Non ci credo. Come non ci credo? Sentiamo questa barzelletta. Va bene? In tribunale ho raccontato la barzelletta. Appena ho finito di raccontare la barzelletta e il giudice ha incominciato a ridere. Rideva, 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 rideva. Neanche un minuto è morto dalle risate pure il giudice. Gli avvocati puri che ridevano. Non volevano ridere. Però alla fine tante da bella barzelletta che ha cominciato a ridere, ridere, ridere. Tre avvocati, tutti morti. Tutte e tre. Attersecchiti proprio. E pure la giuria stava. La giuria ha cominciato a ridere, rideva la giuria. Tutti quelli della giuria, tutti morti dalle risate. Hai capito il pubblico che stava? Un sacco di gente del pubblico. Ridevano, 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 ridevano. Pure loro, morti dalle risate. E lì ho cissuto tutti quelli che stavano in tribunale morti? Non proprio tutti. Sono morti tutti, tranne due carabinieri che stavano nell'aula. Che poi comunque sono morti una settimana dopo. Per tempo di capirlo la barzelletta. Non c'è la barzelletta. La vuoi sentire la barzelletta? No, no.